Dopo aver debuttato con il suo restyling, Peugeot 3008, modello di grandissimo successo che ha sedotto oltre 80.000 clienti italiani grazie a uno stile molto deciso e innovativo, alza ulteriormente l'asticella nel suo segmento di appartenenza con la versione Hybrid 4, confermando la volontà da parte della Casa del Leone di offrire ai suoi clienti il massimo della tecnologia. Per questa versione plug-in hybrid, Peugeot ha pensato di mettere a disposizione fino a quattro diverse modalità di guida. Da qui la denominazione Hybrid 4. Nella modalità in electric la trazione è 100% elettrica e si può raggiungere una velocità massima di 135 km orari. La modalità Hybrid invece è quella che utilizza la migliore combinazione tra il motore benzina e quello elettrico, in funzione del tipo di percorso stradale che si sta seguendo e delle richieste del guidatore in termini di prestazioni. Sport è la modalità che esalta invece le prestazioni della vettura, erogando la massima potenza esprimibile dal gruppo motore, con lo scopo di esaltare ancor più la guida. La modalità 4WD, infine, attiva la trazione sulle quattro ruote per ampliare ancor più il raggio d'azione del SUV su fondi a bassa aderenza. In parallelo alla modalità 4WD, il guidatore può anche attivare la funzione HADC, ovvero Hill Assist Descent Control, per affrontare in tutta sicurezza tratti in discesa molto ripidi e scivolosi grazie al controllo automatico della velocità. Il pluripremiato Peugeot 3008 è leader nel suo segmento e finora è stato prodotto in oltre 800.000 esemplari. Ha raggiunto una performance commerciale eccezionale in Europa e anche in Italia, dove è stato scelto da oltre 80.000 clienti. L'affascinante e tecnologico nuovo Peugeot 3008 Hybrid 4 vi aspetta presso Jolly Automobili, concessionaria Peugeot per Frosinone e provincia del gruppo Jolly Automobili. Visitate le due sedi situate a Ceccano, strada statale dei Monti Lepini, chilometro 6 e 600, a poche centinaia di metri dal casello autostradale di Frosinone e a Sora in via Bayolardo 63. Telefono 0775 87 4340, sito web www.gruppogioliautomobili.com, email peugeotchiocciolagruppogioliautomobili.com.